Lei non è vaccinata, al momento non ritiene urgente vaccinarsi o vaccinare sua figlia. Ci spiega esattamente perché? Allora, ammesso che questo possa interessare, diciamo, il mio status vaccinato. No, interessa molto invece, perché il problema sono i non vaccinati in questo momento in Italia. Sono quelli che poi muoiono più facilmente, non lei per carità, cioè anche giovane, ma dico, quelli che muoiono sono principalmente non vaccinati, che sono infettati magari da qualcuno che ha il vaccino, che non sviluppa la malattia di per sé, ma la passa a un vaccinato che invece ci si può ammalare gravemente. Ha detto la cosa giusta perché quello che ha detto il professore è una cosa secondo me corretta, cioè lui parla di protezione, ed è quello che noi cerchiamo. Io quello che volevo capire è se noi chiediamo al vaccino di essere protetti dalla morte o dal contagio, perché il punto sostanzialmente è questo. Cioè io perché contesto tutto il sistema e l'impalcatura del Green Pass? Perché secondo me con il Green Pass io non proteggo dal contagio, perché io ho dei vaccinati che girano, che non si fanno dei tamponi da tre mesi, e quindi il contagio lo possono, lo possono. Poi non è che lo fanno... Allora, quello che dico io è, perché si usa una misura estorsiva e coercitiva, che poi genera queste, insomma, le reazioni, la gente che protesta. Cioè il vaccino è un valore, è qualcosa che serve. Se noi lo andiamo a imporre alle persone con delle soluzioni che sono delle politiche sanitarie, ma non hanno un fondamento scientifico, le persone hanno tutto il diritto di contestare che con il Green Pass si contagia lo stesso. Non c'è la protezione dal contagio. Ma un fondamento scientifico chi l'ha deciso? I dati. I dati quali, mi scusi? I dati, quelli che sono pubblici e che dicono che... No, scusi, mi citi quali dati? I dati di Pfizer, i dati... Si tutto superiore di sanità... Dice che i vaccini non servono. No, ma perché lei deve... Scusi, eh. Che non servono a fermare il contagio. Non servono a fermare il contagio. Io penso che le persone che ci sentano sono in grado di capire cosa si sta dicendo. Esatto. Qui si sta dicendo che il vaccino fa il suo lavoro, cioè protegge dalla malattia. E il professore è quello che ha detto. Eh. Quello che si sta dicendo, e che dicono tutti in Italia e all'estero, è che non è sicuro che... Cioè, sicuramente non azzera il contagio. Certamente. Ecco. E quindi, se io sono a contatto con una persona non vaccinata, scusa, vaccinata con Green Pass, non sono sicura che questa persona... Ma il fatto che renda più difficoltoso il contagio non le sembra sufficiente? No, a me sembra sufficiente che protegga dalla morte, che protegga dal decesso, dalla terapia. Allora, quello mi sembra il vantaggio in assoluto di cui dobbiamo tener conto. Ma anche il fatto che io, da vaccinata, sia meno contagiosa di lei che non è vaccinata, è fondamentale, è importantissimo. Perché se in questo momento una delle due, ok, lei non fosse vaccinata, avesse il Covid da non vaccinata, ok, sarebbe molto più contagiosa eventualmente di me, che ho il Covid, che potrei avere il Covid, da vaccinata. No, è inutile che fanno con la testa. È così. Se lei vuole negarlo è così. Ma sono discorsi. E questo lo dice la scienza. Allora, posso dire. Allora, se io in questo momento fossi ammalata e fossi infettata e avesse il Covid, rischierei seriamente di contagiarla e di mandarla all'ospedale. Se lei in questo momento avesse il Covid, non rischierebbe di mandare me in ospedale, molto probabilmente. No, qui bisogna stare a semplicistico. No, questa è scienza. È inutile che lei continui. No, è perché io non accetto un contraddittorio con una persona che nega la verità. Allora, io ho passato... Non l'accetto. Parta da un presupposto di verità e poi parliamo. Appunto. Infatti, il presupposto di verità è un presupposto etico. E qui si sta parlando di etica, si sta parlando di politiche sanitarie, ok? Il discorso che sto facendo io è che ci sono dei paesi che hanno raggiunto situazioni di grande serenità senza ricorrere all'obbligo. Perché se si pensa... Ma non c'è l'obbligo. Allora, posso finire? Non c'è l'obbligo. C'è un obbligo sul rettizio che si chiama Green Pass. Non c'è un obbligo, si chiama requisito per accedere a determinate... Esattamente. Scusi, guardi che se lei non vuole andare... Se lei non vuole fare determinate cose perché non si vaccina, ok? E sono scelte sue, ma non è obbligata a vaccinarsi. A parte il fatto che con il suo tampone può entrare al ristorante e può andare dove vuole. Quindi non mi sembra che ci sia una regola così restrittiva. È ridicola questa conversazione. È ridicola, perché non sa cosa dire, questa è la verità. Io sono su questi dati da due anni, però lascio la parola al professore per i dati. Parla di obbligo. Vorrei, certo, questo è un obbligo sul rettizio e io penso che i cittadini siano assolutamente in grado di decidere se si devono vaccinare o no. I cittadini? Il punto è questo. I cittadini si stanno vaccinando quasi tutti. Appunto. L'85% è vicenda di... Ma lei deve ringraziare i cittadini che si vaccinano se oggi è qui e non è chiusa in casa, capisce? Non rovesciamo la frittata. Lei deve ringraziare i cittadini che si vaccinano. No, io non ringrazio proprio nessuno. Altrimenti sarebbe in casa e saremmo in un'altra situazione di lockdown. No, ogni cittadino si è protetto. Sì, si è protetto. Il professore giustamente parlava di protezione, il cittadino si è protetto. Sono scelte politiche perché per esempio, sì certo, se io metto il Green Pass per un ragazzino di 12 anni che non contagia o pochissimo... Non contagia? Sì, guarda, non mi dica che anche lei è tra quelli che dicono che i ragazzi sono dei maligni amplificatori biologici. Anche lei pensa a questo? Ma che spessioni sta usando? Mi ha letto i dati? Queste sono le espressioni che usate voi. Il primo studio che ha parlato... Queste sono le espressioni becere che usate voi. Calma. Veramente l'ha detta il professor Burioni. Comunque, il primo studio che ha fatto il professor Crisanti, quello di Voh, parlava proprio della contagiosità dei minori, dei piccoli. Facciamo passare a parlare il professore. I bambini non contagiano? I bambini contagiano di meno e sono usciti tanti studi. Professor Crisanti, così mettiamo... E soprattutto hanno il diritto di andare a scuola, senza essere... Ma va? Ma va? Sicuramente non vaccinandosi tutti, ma tornano a scuola. Stia sicura che tornano a scuola. Lei sta facendo una discussione che non esiste. Non esiste. Ha ragione, lei non esiste. Sì, è una discussione che non tiene conto dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Un attimo, allora, una cosa... Scusate, un momento per volta.